L'impegno sociale, la diffusione della cultura e l'incoraggiamento dei giovani talenti. Sono qualità non comuni che ogni anno l'associazione Maison des Artistes riconosce a personalità distinte nei più diversi campi, dalla scienza al cinema, dalla musica alla solidarietà. Una celebrazione dell'Italia migliore, che come già nella passata edizione ha avuto come cornice l'aula magna dell'Università Sapienza di Roma, la presenza ai numerosi rappresentanti delle istituzioni. Nell'arco della manifestazione, artisti e concertisti di rilievo internazionale si sono esibiti con brani di musica da camera. Quest'anno, ad aprire la cerimonia, sono state le note dell'inno nazionale suonate da una rappresentanza della banda dell'esercito, diretto dal capitano e maestro Antonella Bona, premiata con la medaglia d'oro per l'impegno con cui è elevato il livello degli oltre 120 elementi appartenenti alle Forze Armate. La giuria presieduta da Vittorio Barbagiovanni ha consegnato il prestigioso riconoscimento internazionale fra gli altri a Carlo Lizzani, regista e sceneggiatore del cinema neorealista. Nella lunga serie di capolavori del maestro Lizzani spicca il riso amaro di cui firmò la sceneggiatura e il soggetto. La motivazione in pergamena riconosce al grande autore la generosità con cui ha realizzato le sue opere di indiscusso valore artistico. In tutte le sue produzioni, si legge ancora nell'attestato, è sempre presente l'artista, l'intellettuale e lo studioso. Fra i premiati è anche il direttore generale del Policlinico Umberto I, Domenico Alessio. La giuria ha motivato il premio riconoscendo l'attività di risanamento dei conti compiuta dal manager e in particolare l'impegno dimostrato per riaprire due chilometri di gallerie sotterranee che rappresentano delle arterie vitali per l'efficienza della struttura sanitaria. Abbiamo la responsabilità di dirigere un grande ospedale, il più grande d'Europa, ha commentato il direttore Alessio al momento di ricevere la medaglia d'oro. Un Policlinico ha continuato dove hanno insegnato e operato importanti scienziati del passato e che oggi vede professionalità eccellenti che pur compiendo sacrifici quotidiani svolgono il loro ruolo con dignità. Ne ricevere il premio il direttore ha voluto accanto anche il professor Corrado Moretti, responsabile del DEA Pediatrico, insieme al quale ha ribadito la sfida della ristrutturazione del reparto dedicato ai piccoli pazienti oncologici. A margine della premiazione, inoltre, Alessio ha commentato l'annuncio fatto in mattinata dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, di voler sbloccare il turnover. Soprattutto al Policlinico Umberto I, questa misura potrebbe aiutare le attività sanitarie. Noi abbiamo qualcosa come 1.500 elementi in meno rispetto all'organico, quindi sarebbe veramente una soluzione formidabile per un grande ospedale come il Policlinico. Il progetto di ristrutturazione è stato archiviato? Assolutamente no, il progetto di ristrutturazione è sempre in evidenza, tant'è che oggi ci siamo incontrati con l'Agenzia del Temanio, prima ci siamo incontrati con i Vigili del Fuoco, ancora prima ci siamo incontrati con la Sovrintendenza delle Belle Arte di Roma e con la Sovrintendenza archeologica.